Io già il primo anno che ero entrato a fare il priore avevo proposto anche a seguito di alcune discussioni all'interno della mia porta questo tipo di cambiamento perché questo tipo di cambiamento non è fatto esclusivamente per il portaiolo perché il portaiolo cambia pochissimo, è stata fatta per la gente, per la festa in seppe stesso perché trattenere le persone all'interno dell'anello senza vedere nulla fino alle 10 e mezza come era il vecchio sistema era pesante anche per la gente che ci veniva quindi era un discorso proprio per la festa, per migliorarla sicuramente questa novità avrà bisogno di qualche aggiustamento perché era l'anno zero dove lo vedi l'aggiustamento per esempio da fare? Sicuramente c'è qualcosa da rivedere sul finale, sulla parte finale perché è quella che è rimasta un po' più in discussione la riuscita sicuramente avremo l'anno per parlarne e per migliorarlo io credo che sia stata una scelta azzeccata poi chiaramente ci siamo ripromessi di analizzare tutto quanto il prima possibile era un anno sperimentale, bisogna vedere un pochino tutto quanto per quanto riguarda la logistica, gli incarsi delle taverne, il flusso di gente l'impegno che ha avuto la commissione tecnica e le difficoltà soprattutto anche io sono d'accordo su un finale diverso secondo me le sfilate dovevano finire una volta che fossero entrate in piazza senza poi riuscire verso i giardini quindi diciamo finire con il bando quando entrano finiscono lì beh sì, anche perché però chi li riporta i carri ai giardini? no no, poi magari all'interno di ogni corteo ci sono i responsabili sarebbero riportati ognuno i propri carri tranquillamente c'era tempo, c'era anche la possibilità di aspettare la gente che fosse uscita dal percorso dico che è stata un'innovazione sulla quale bisogna puntare per quanto riguarda il sabato sera noi abbiamo una nostra posizione non cambia no, non cambia non da adesso diremo quello che dovremmo dire quando avremmo letto la relazione della commissione tecnica quando avremmo esaminato i dati delle taverne perché Roberto prima lo accennava il corteo, credo l'ultimo corteo si è arrivato ai giardini alle 1.30 io quando sono andato in taverna l'1.20 mi ero cambiato da casa sono acceso in taverna sono arrivati tutti i miei figuranti che volevano cenare con le donne che stavano in cucina che chiaramente la mattina dopo si dovevano alzare le sette quindi i tempi erano prolungati si sono dilazionati questi tempi e ci ha portato al di là della partenza come vediamo noi la festa di partire ognuno dalle 4 porte e arrivare in piazza io partirei e qui lancio la provocazione al Presidente dalla proposta fatta il Presidente di anticipare la festa al sabato con la lettura dei bandi c'era una proposta in questo termine che il Presidente ci doveva formalizzare ci formalizzerà e da lì per alleggerire il sabato la vedrei in questo senso quindi anticipare i bandi al venerdì? o il venerdì non lo so adesso la proposta del Presidente però il venerdì o il sabato lo sentiremo o il sabato antecedente e portaiolo addirittura perché prevedeva la festa degli 8 giorni Nicola Bossi, San Benedetto ci potrebbe ragionare non solo per cambiare la giuria della sfilata così facciamo pari con San Facondino a lui mi piace i bandi a me non piace una giuria che non ha le schede di valutazione e dove non mi si dice qual è la competenza storica qual è il voto sulla scenografia quindi cambiamo queste cose io credo invece una bella giuria dove ci sono i tecnici possibilmente senza chiamarli per nome e dove ci sono anche una giuria popolare un modello Sanremo dove in questa maniera c'è il gusto popolare e il gusto tecnico